Ma guarda, io in questo momento sono molto contento perché è un gruppo eccezionale che si allena sempre al massimo, mi hanno dato la loro disponibilità e quindi abbiamo fatto queste due partite di Coppa Italia, anche se come si dice non è il calcio che conta in questo momento, però devo dire che mi hanno dato dei segnali molto positivi. Quindi sicuramente manca ancora un po' di lavoro perché siamo partiti in ritardo, abbiamo qualche problemino ancora fisico di alcuni elementi importanti, ma chiunque giocherà sono convinto che alla prima di campionato darà il massimo. Gigi Iervese, già calciatore del Francavilla, ora allenatore, anche la prima esperienza tra i grandi per Iervese, che momento è anche per la tua carriera? Devo dire che era quello che desideravo, dopo sei anni di settore giovanile bellissimi nel Pescara, colgo l'occasione per ringraziare il Presidente e tutta la società perché mi ha dato la possibilità di crescere e di confrontarmi anche con tecnici bravi. Per me sono stati anni importanti e formativi, era quello che desideravo, iniziare a allenare grandi, era un desiderio mio, nel Presidente e la società mi ha dato questa fortità, speriamo di non deludere e di ripagare la fiducia del Presidente e della società.